Lo hanno arrestato in pieno centro a Padova, non ha fatto nemmeno in tempo a disfarsi dei 40 grammi di marijuana che aveva in tasca e accusato di detenzione ai fini di spaccio. Protagonista è Salahidin, Ray Ali, 20 anni, fratello di Meriem, la giovane foreign fighters marocchina di Arzer Grande, scappata in Siria nel 2015 per arruolarsi nell'ISIS. Il ragazzo è incappato nei controlli antidroga della squadra mobile di Padova mentre si aggirava in zona Portello ed è finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che dovrebbe svolgersi nelle prossime ore. I poliziotti hanno sequestrato il cellulare del giovane e la droga. Il ragazzo in passato aveva avuto altri guai con la giustizia. La sorella Meriem, secondo fonti giornalistiche, si troverebbe in un campo profughi in Siria insieme ai due figli e sarebbe pentita. In Italia il processo per terrorismo internazionale l'ha condannata a quattro anni di carcere.